Io avevo finito la mia dieta quel giorno e io ho detto Oggi domani E poi andiamo andati alla cassa E dovevamo spettare che sono 7 euro Vediamo 7 euro Secondo me questa frase qui Questo qua dice sarebbero 80 80 Mi risotto Non ti ricordi? Qualcosa deve essere 80 e allora facciamo Poi c'è la regna Poi c'è la regna Poi c'è la regna Non è come la regna Non è ancora cantata Ma dai lo stanno E l'ho detto E poi siamo giocicostari come delle vecchiette Perché non fanno di più Vi dico Questo l'ho detto su Youtube Ma tu mi sei E diceva sul Youtube Ma cosi Ma cosi E' un film Che la scrivi E faccio la regna E va te la fanno un culo E' su Youtube E' su Youtube Ma recentissima per modo di dire Non è scritta Grazie a tutti.